Ciao amici di Fantapaz, oggi parliamo della Roma di Juric, quindi come giocherà la Roma di Juric, come vedete anche nel campetto, insomma è abbastanza evidente, è un 3-4-2-1, credo che sarà questa la squadra che, insomma, Juric l'anno scorso, però anche se poi uno magari potrebbe pensare, non vedendo forse sempre le stats o non vedendo sempre le partite, potrebbe pensare anche vista la stagione scorsa in cui il Torino ha avuto una grande capacità difensiva, perché Milinkovic è stato il secondo per Klinshit, la difesa è stata comunque un muro per il Torino, per il livello anche del Torino, è comunque una squadra che poi è arrivata a decima, no, la decima, e quindi è comunque, dal punto di vista difensivo, c'è un Torino del 2023 dove comunque non c'era Zapata, appunto il modulo era questo, era il 3-4-2-1, e c'è un Torino anche a inizio dell'anno scorso, quando c'era ancora Scurs, che abbiamo visto in alcune partite, tra l'altro, insomma, nelle prime 7-8 partite, in cui c'era Scurs che faceva il centrale destro, comunque Scurs e Buongiorno si alternavano, c'era Riccardo Rodriguez sul lato sinistro, una volta fattosi male Scurs, Buongiorno è diventato il perno centrale fisso, e sulla destra si sono alternati Voivoda, Tamesa, addirittura che comunque nasce centrocampista, ed è stata, se vogliamo, un'intuizione di Juric, però comunque l'avere Zapata ha poi portato Juric a giocare, diciamo forse a snaturarsi offensivamente perché ha voluto giocare con due punte anziché con una, e quindi perché per far giocare anche Sanabria, anche se Sanabria spesso giocava un po' più arretrato, si allargava sulla fascia, e quindi diciamo che normalmente lui preferisce, secondo me, giocare in questa maniera, e ci può stare in tante occasioni, però vedremo magari lo stesso Pellegrini mettersi un po' più qui al centro e Di Bala andare in avanti, ad esempio, o Sule, difficilmente, secondo me, vedremo Di Bala e Sule a giocare in avanti, giocare entrambi dietro le punte, anzi al posto di Pellegrini mi aspetto che comunque possa giocare magari Le Fee, che comunque è stato un acquisto importante dal punto di vista economico, e forse potrebbe giocare molto più avanti, diciamo tra i centocampistica in questo momento la Roma, messi Cristante, qui ho messo Cristante con E, cioè Pisilli che abbiamo visto molto bene con la Juve, e poi col Genoa, c'è comunque sempre Paredes, però insomma, loro due, secondo me, questa zona Cristante con i Pisilli e i Paredes saranno i giocatori che si giocheranno il posto, con, secondo me, una preferenza leggera per Cristante rispetto a Paredes, perché comunque le squadre di Juric, appunto, l'abbiamo detto, squadra difensiva molto forte difensivamente, ma appunto, su uno dei due lati, spesso, comunque su tutti e due i lati, l'anno scorso ovviamente, avendo Bellanova, il lato destra era molto più spiccato e utilizzato, però anche il lato sinistro, quindi vedremo tante volte appunto Pellegrini a centrarsi, magari Angelini andare sul fondo, o quando giocherà Zaleschi, che sembra essere stato reintegrato, e quindi dovrebbe essere ancora utilizzato, andare avanti sul fondo, in realtà, sia Cristante che Cone, comunque hanno le caratteristiche, Cristante l'ho fatto tante volte anche l'anno scorso, ma volendo anche Cone, penso, anzi, i due potrebbero anche invertirsi, adesso l'ho messo Cone a destra e Cristante a sinistra, potrebbero stare anche al contrario, per dare supporto, perché lì appunto, nel Torino, c'era Ricci, che era, diciamo, il regista della squadra, che spesso scalava in mezzo ai difensori in fase di possesso, quindi tornava indietro, e magari, appunto, il centrale si spostava, l'altro centrale destro, l'altro braccetto comunque si spostava anche su, formando una specie di linea 4, con l'esterno, in questo caso sarebbe indica, ma potrebbe essere anche Hermoso, che si sposta sul lato sinistro. E quindi, in fase di possesso sicuramente sarà interessante vedere, o Cristante o Paredes, che faranno partire il gioco. In fase di non possesso, sempre in fase di possesso, però, potremmo avere, appunto, come detto, Angelino che va molto in avanti, con Cristante o Cone, che va ad occupare la posizione che verrà lasciata libera da Angelino, con Pellegrini, appunto, che si accentrerà, e spesso potrebbe andare anche sulla fascia, sulla fascia, stessa cosa potrebbe succedere con Dybala e su Le, forse a maggior ragione, quindi li vedremo spesso molto laterali, perché comunque lui vuole che i due trequartisti non siano statici dietro la punta, vi ripeto, è una questione più di due anni fa, in realtà, che non dell'anno scorso, dove c'era Sanabria, e quindi erano dinamiche totalmente diverse, e quindi c'erano due punte, dove, appunto, spesso veniva chiesto a Sanabria di fare, diciamo, il trequartista, al fianco di Vlasic. E quindi, comunque, mi aspetto che i due centrocampisti, appunto, Pellegrini e Le Fee, Dybala e Sule, poi vediamo se addirittura giocheranno, riuscirà a far giocare, a coesistere Dybala e Sule, spostando uno dei due sul lato sinistro, però comunque devono essere laterali molto, perché lui, comunque, vuole una, come diciamo, appunto, Cristante va a occupare la parte di Anghelinio, ma lo stesso Cristante, lo stesso Cone, comunque devono essere pronti a, eventualmente, se i due esterni si allargano, i due trequarti si allargano, a occupare questa fase centrale, quindi per fare una sorta di 1-4, quindi col centro avanti e quattro giocatori a chiusura. Questo, però, naturalmente, con una, sempre con una, un non avanzamento eccessivo, lui, comunque, non è un allenatore che vuole che, in braccetti, quindi, in questo caso, Mancini e Indica, Mancini e Hermoso, poi vedremo chi giocherà, dovrebbero giocare, comunque, soprattutto Mancini e Indica, credo, anche perché magari Hermoso potrebbe giocare anche da centrale al posto di Hummels, e se giocherà qualche volta Anghelinio sul, sul, come il braccetto di sinistra, come l'abbiamo visto col Genoa, ad esempio, potrebbe essere qualcosa di diverso, ma lui li vuole molto bloccati, vuole molto bloccati, non vuole che il braccetto vada eccessivamente in avanti, proprio per mantenere, comunque, una diga di tre centrocampisti, a cui poi si aggiungeranno, appunto, e gli esterni, però devono essere, appunto, esterni validi in quel tipo di gioco, perché poi di Bellanova ci si ricorda i cross, però Bellanova faceva anche un grande lavoro in fase difensiva, dava una mano, soprattutto quando dietro c'era Voivoda, c'era comunque uno scambio, c'era, diventava anche spesso una linea, non dico a cinque, ma più a quattro, perché uno dei due esterni scendeva molto sul, in questo caso, soprattutto sul lato destro, scendeva molto perché era una linea a quattro, quindi lui, grande organizzazione difensiva, grande organizzazione che comunque, secondo me, richiederà un po' di tempo con tutti questi movimenti che vi ho segnato con le linee, in cui comunque ci vuole un automatismo, che un automatismo si crea, naturalmente, con l'allenamento. Detto questo, chiaramente, quindi, non sarà un gioco simile a quello che vedevamo, anche con la difesa 3, che poi, in realtà, abbiamo visto solamente per una, una, se non due partite, insomma, quella con la Juve, anche di De Rossi, sarà un gioco diverso, secondo me, un po' più prettamente portato alla difesa, al blocco della difesa, che non all'offesa, e quindi dovrà essere importante il lavoro davanti dei due o tre quartisti, per cercare di inescare il Dobrik, perché Dobrik ha bisogno, non è un giocatore che si viene a prendere i palloni a centrocampo, non è un giocatore che dialoga particolarmente, lo abbiamo, insomma, vi l'abbiamo parlato tante volte, anche nel video che abbiamo fatto su di lui, con Pietro Dell'Anna, quindi, ne abbiamo parlato, insomma, Dobrik è un centravanti d'aria che ha bisogno di essere rifornito. Normalmente al Girona, magari, succedeva con dei esterni, qui esterni, con delle ali, che qui alla Roma non ci sono, però di Bala, sulle Pellegrini, vediamo anche l'effetto come si crescerà, e poi, appunto, ci sono anche gli esterni, dovranno essere loro a cercare di innescare l'Ucraino, e ci vogliono dei meccanismi che ci vorrà, sicuramente, secondo me, un po' di tempo, per arrivare a comunque una squadra che, magari, non coglierà l'occhio del tifoso romanista, o dello spettatore neutrale, però potrebbe essere efficace dal punto di vista difensivo, questo sicuramente. Diciamo, come detto, queste sono le, penso, la squadra che vedremo molto più spesso, però, come detto, io ho una puntatina dal punto di vista, visto che, giustamente, siamo una pagina di fantacalcio, e quindi vi aspettate anche qualche consiglio sul fantacalcio, indubbiamente, io mi aspetto che che l'Efe possa comunque cominciare ad avere un po' più di spazio ad essere provato, e lui potrebbe essere un interessante, mentre, appunto, Di Bala-Sulè rischia di essere un dualismo che duerà spesso, e forse, vista la... insomma, se Di Bala non avrà particolari problemi fisici, rischia di essere a svantaggio di chi ha su l'E, perché, comunque, deve far fuori Di Bala, poi deve, comunque, avere la possibilità di... sì, di inserirsi durante la partita in corso, questo sicuramente, ma, insomma, potrebbe esserci meno spazio, almeno dall'inizio, tutte le volte che ci sarà Di Bala, se Di Bala, poi, quando giocherà, farà bene, insomma, sarà difficile toglierlo da lì. Detto questo, lo stesso Pellegrini, comunque, se cambierà marcia, potrebbe, comunque, diventare molto interessante, diventare, comunque, uno di quei tre quartisti che, poi, negli anni scorsi, insomma, addirittura già dal Verona, lo Zaccani del Verona, lo stesso Vlasic, comunque, in un paio di anni ha fatto, anche, abbastanza bene, Miranciuk, insomma, ne abbiamo visto, lo stesso Radonich, se vogliamo, anche se, poi, c'è stato un rapporto burrascoso tra i due, ed non era, proprio, il prototipo del giocatore che si metteva a disposizione della squadra e che aveva, nella continuità, il suo punto di forza, però, insomma, quando Radonich stava bene, era un giocatore che dava fastidio alle difese avversarie, quindi, una squadra, comunque, come detto, organizzata difensivamente, che si affiderà molto alla tecnica lì davanti, quindi, vediamo, vediamo se riusciranno a crescere in quella zona di campo cercando anche di innescare Dobrik che poi, insomma, se viene innescato è un giocatore che può segnare un buon numero di reti. Questa è l'analisi sulla Roma, sulla Roma di Juric, spero che vi sia piaciuta, e, naturalmente, se vi è piaciuta, lasciate un like e, magari, iscrivetevi, insomma, se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.